allora lo mettiamo sul tavolo e vediamo un pochettino di cosa si tratta come dire di contrattempo perché mi stavo collegando e tutto e all'improvviso è capitato che google mi ha chiesto l'autenticazione e purtroppo questo ha comportato che come dire per fare questa autenticazione ho perso un po di tempo e quindi non mi sono riuscito ad attrezzare più di tanto per rispettare l'orario per mantenere l'orario e ho dovuto fare questo allora è quello che vedo mi piace se ortur laser master 3 allora io ho visto che con gli incisori laser si possono fare veramente tante 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 cose anche auto costruirsi dei planetari dei modellini legno quindi l'obiettivo è anche di fare questo no di fare un video e di farvi vedere come si possono fare i planetari come possiamo costruirci tante cose personalizzate infatti vedete anche se questo loro fanno vedere tutto quello che ok Grazie a tutti. 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 Ok, questo è tutto a posto, poi prossimo video lo completiamo e vediamo come funziona e faremo qualche prova con il nostro nemico laser. Vi saluto, ciao e ci vediamo al prossimo video.